Ora lo sport, partiamo dal volley, la VBC trasporti pesanti Casal Maggiore dopo le verifiche odierne ha deciso di non confermare il reclamo formulato ieri in occasione della partita persa contro la Savino del Bene Scandicci. La notizia è arrivata proprio pochi minuti fa, il motivo del contendere era la presenza in lista di una giocatrice che non poteva essere schierata da Scandicci. Il 3-0 maturato sul campo diventa dunque il risultato definitivo. Nella comunicazione della VBC inviata al giudice sportivo la società Rosa si dice convinta della fondatezza del reclamo preannunciato ieri ma che non intende dar seguito all'istanza accettando quindi il risultato del campo con la relativa omologa della gara.